Bene, allora buonasera, benvenuti al civico planetario Francesco Martino di Modena. Quindi diamo il via ufficialmente a questa seconda edizione di Young Doctors for Science, quindi dei giovani dottori per la ricerca. E inizierei subito a presentarvi l'artefice, comunque la mente, colui che ha inventato letteralmente questa bella rassegna che è iniziata l'anno scorso, quindi in collaborazione con il planetario, e che quest'anno continua, quindi rinnovata, addirittura supportata da un'altra idea del dottor Pascolo. E quindi l'associazione che è nata da questa esperienza dell'anno scorso, e quindi i giovani dottori dell'anno scorso, si sono formati letteralmente a costituire questa associazione, direi molto interessante, che ha come missione, tra le una delle missioni, quella di divulgare appunto la scienza in posti quali planetari, ma non solo, nelle scuole. E quindi davvero grazie di questa possibilità, grazie ancora per aver scelto il planetario di Modena, è davvero un onore poter portare avanti quella che è la nostra tradizione di cultura, di divulgazione, quindi quella che fu l'idea iniziale del professor Francesco Martino, che vide in questo posto, in questo luogo dove ci troviamo, la culla dell'astronomia, ma non solo, anche delle scienze affini. E poi permettetemi di dire che questa sera inizieremo con una conferenza davvero molto bella, dedicata alla qualità dell'aria, perché i temi saranno davvero i più vari, saranno, magari dopo Eric ci illustra un po' brevemente quello che è il calendario della rassegna, ma quest'anno c'è anche la biologia, Barbara. A me è scienza molto affine, per così dire. Quindi l'anno scorso si è partiti con un'idea un po' più sull'astronomia, un po' più sulla fisica, un po' più sull'astrofisica. Quest'anno, se vedete e consultate e visitate il sito web, che tra un po' il dottor Pascolo ci darà, potete notare come davvero i titoli variano su diverse tematiche, diverse scelte davvero molto belle. Quindi non rubo altro tempo, anche perché siamo un po' in ritardo, e con molto piacere, prima di passare la parola alla dottoressa Arvani, di fare parlare il fautore, l'ideatore. E quindi un bel applauso al dottor Pascolo e ai giovani dottori. Grazie. Grazie. Sì, quest'idea è nata un po' da me e da altri ragazzi che hanno la mia stessa passione scientifica, diciamo, appunto per divulgare e comunicare la scienza in modo abbastanza semplice e capibile a tutti. Questa sera siamo qui con Barbara, che è una laureata in geofisica, si è occupata di telerilevamento e vulcani nella sua tesi di laurea. E adesso fa il dottorato in ingegneria, portando avanti un progetto che è iniziato negli Stati Uniti, di uno sviluppo di un software open source per appunto il controllo della qualità dell'aria. Qua avete tutti i nostri riferimenti, ci trovate sui social network, abbiamo anche un blog dove abbiamo dei ragazzi che si occupano di giornalismo scientifico, fanno master in comunicazione scientifica un po' sparsi per l'Italia, scrivono anche articoli divulgativi e articoli per l'orientamento magari universitario per i giovani delle superiori. Ringraziamo per la collaborazione il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore, il Planetario, l'Associazione di Astrofotografi JW Drapper, Unimore, il Comune di Modena e il Piano Nazionale Lauree Scientifiche per aver creduto in noi e averci dato il patrocinio. Ne approfitto proprio per sottolineare questi sponsor, non sono da poco, qui si parla e sono trasversali su tutti i campi, quindi dall'università fino ad associazioni culturali. Questo proprio a dimostrarvi quanto si creda in questo impegno e soprattutto in quest'idea di questi giovani dottori. Quindi, Erika, a te l'onore di presentare a modo la Barbara. Beh, Barbara, c'è qualcos'altro a dire? No. Quindi ti lascio la parola. Buona conferenza a tutti. Grazie. Grazie, buonasera e grazie di essere venuti qui ad ascoltare la mia conferenza come anticipato dal titolo Qualità dell'aria, chiediamolo ai satelliti. Come suggerisce un po' il titolo, la conferenza verterà proprio sullo studio e cercare di capire quali sono le metodologie utilizzate un po' per lo studio della valutazione e della previsione della qualità dell'aria. La prima parte della conferenza cercheremo di capire, verterà su un po' la presentazione di quello che è il particolato atmosferico. In particolare andremo a definire più in dettaglio che cosa intendiamo per PM10 e per PM2.5. La seconda parte che apparentemente sembra svincolata dalla prima che l'ho intitolata Remote Sensing, il termine inglese per definire la parola telerilevamento. Su questo aspetto quindi andremo a definire chi è e perché viene utilizzato MODIS, che è un radiometro a bordo di un satellite come vedremo più in dettaglio successivamente e cercheremo di capire qual è il collegamento e il link tra questi due primi capitoli della conferenza. Il tutto si risulterà chiaro nella terza parte quando andremo ad analizzare proprio in dettaglio dei risultati che la ricerca che stiamo proprio ottenendo grazie anche al lavoro di un ragazzo della laurea triennale di ingegneria che sto affiancando e infine vi parlerò appunto di questo software che vi ha già anticipato Eric dal nome Idea International è un software che è stato sviluppato dalla NASA negli Stati Uniti e che recentemente è stato rilasciato nelle università americane proprio per motivi di ricerca e di studio. Iniziamo quindi la nostra conferenza con l'introduzione appunto del particolato atmosferico. particolato atmosferico che in generale lo possiamo definire come aerosol come polveri che è tutto quello diciamo che è presente in atmosfera. Questo particolato che quindi è costituito da particelle solide ma anche da particelle liquide e che può avere origini in generale possiamo dire antropogeniche o comunque origini naturali. i termini tecnici quindi possiamo trovare anche un po' documentato i termini di particolato primario o particolato secondario a seconda che le particelle che possiamo rilevare in atmosfera siano direttamente emesse quindi da processi naturali o appunto antropogenici oppure a passo successivo detto in parole semplici se abbiamo quindi delle emissioni di gas da attività industriali oppure per esempio anche da origini naturali come per esempio un'eruzione vulcanica che a contatto appunto con l'atmosfera entrano in reazione con vaporacque e la radiazione solare e possono generare particelle successive. Questo è un po' di nomenclatura tecnica per diciamo definire un po' quello che si può trovare in letteratura a proposito di particolato atmosferico. Più in dettaglio quindi spesso anche sui giornali comunque avrete avuto occasione di leggere che cos'è di sentire parlare appunto di particolato PM10. PM10 sta per questa sigla quindi Particularity Matter che identifica tutte quelle particelle che possono essere identificate quindi con un diametro uguale o inferiore ai 10 micron di metro e questa è una rappresentazione grafica quindi vediamo rappresentato un capello umano che ha come diametro tipicamente sui 50 70 micron di metro un micron equivale a 10 alla meno 6 metri quindi una grandezza piccolissima e il particolato PM10 quindi risulta ad essere un quinto del diametro di un tipico capello umano giusto per dare un po' un ordine di ingrandezza di quello quando si definisce PM10 quindi il PM10 lo possiamo identificare con polveri di varia natura lo possiamo quindi tutto il fumo che è micro gocce di sostanze liquide e tutto questo contribuisce appunto ad incrementare la presenza di particelle microscopiche sospese in atmosfera se vogliamo essere più dettagliati appunto su quello che è l'origine di questo particolato possiamo dire come già vi anticipavo nella slide precedente che abbiamo sia un'origine di tipo naturale e quindi dovuto appunto al polline per esempio che rientra in questa categoria e quindi tutto quello che comporta poi la presenza di polline diffusione di polline in atmosfera e anche l'attività del vento che con l'erosione del suolo contribuisce appunto a aumentare la presenza di particolato in atmosfera chiaramente da non dimenticare le eruzioni vulcaniche che non sono tipiche prevalentemente della nostra zona della pianura padana ma che in altre zone dell'Italia invece entrano ed è un dato importante con l'emissione appunto di ceneri di gas e anche di sostanze liquide e infine tutti gli incendi e questa è tutta la parte diciamo di origine naturale che chiaramente l'uomo non può controllare direttamente mentre invece la parte che si vuole controllare per limitare la concentrazione di particolato in atmosfera quindi quello che diventa in qualche modo più dannoso è la parte di origine antropica quindi quella legata all'origine dell'attività dell'uomo quindi tutta la parte diciamo di inquinamento dovuta proprio alla combustione quindi combustione dei motori il traffico veicolare e soprattutto le attività industriali quindi quando si quando si limita appunto si vuole abbassare sui giornali si legge il blocco delle auto proprio per abbassare diciamo il livello di particolato in atmosfera si agisce prevalentemente sull'origine antropica del particolato con lo stesso giochino quindi un po' con lo stesso ragionamento arriviamo a definire il particolato ultrafine cioè il particolato PM2.5 che come avrete sicuramente intuito si parla appunto di particolato che ha un diametro che è di di diametro appunto di particelle che possono essere identificate con un diametro uguale o inferiore a 2.5 micron quindi un quarto rispetto appunto al PM10 che a sua volta è un quinto del diametro di un capello umano e così via anche quando si parla di PM1 eccetera cioè via via per identificare delle particelle con diametro sempre più piccolo anche qui chiaramente l'origine riassume un po' quello che già abbiamo detto per quanto riguarda il PM10 quindi sia di origine naturale quindi sia dovuto appunto aerosol marino quindi ripetiamo ancora l'attività del vento proprio di erosione dei suoli e l'origine prevalentemente antropica quindi di processi di combustione più diciamo per usare un termine abbastanza generale e tutta l'attività del traffico veicolare chiaramente l'attività industriale è ovvio che questo diciamo ho voluto un pochettino dare proprio una panoramica abbastanza divulgativa e di definizione di quello che intendiamo per PM10 PM2.5 comunque di particolato atmosferico in generale quello che è importante è che il motivo per cui questo particolato atmosferico viene studiato e quindi perché la qualità dell'aria è un aspetto importante di studio proprio perché l'aumento quindi ha dell'aumento di particolato in atmosfera ha delle conseguenze immediate con la salute dell'uomo quindi ha degli effetti proprio sulla salute in particolare l'aumento della nocività appunto di queste polveri sottili è legata alle dimensioni stesse delle polveri cioè questo che cosa significa significa che tanto più è piccola la dimensione della particella tanto maggiore è la sua pericolosità questo perché perché le polveri sottili entrano nell'apparato respiratorio quindi come vediamo nello schema qui a destra se noi consideriamo il particolato PM2.5 vediamo che entrano fino diciamo alla zona bronchiale quindi riescono a penetrare interamente nell'apparato respiratorio e tutte poi la serie di patologie quindi legate a questo agli effetti appunto sulla salute legati alla presenza di particolato in atmosfera le più documentate quindi effetti di asma gli effetti di affezione cardiopolmonari e quindi infine chiaramente la diminuzione di funzionalità polmonari questo diciamo il fatto che ci sia quindi un grande impatto anche su sull'effetto della salute umana chiaramente ha portato poi alla necessità di riuscire ad interpretare chiaramente i valori di concentrazione del PM10 o equivalentemente anche del PM2.5 e quindi di trasmettere delle tabelle in modo tale da divulgare proprio anche alla popolazione la pericolosità legata al valore di concentrazione misurata spiegandomi meglio cosa vediamo vediamo che agenzie quindi per esempio la rete di monitoraggio di ARPA che è diciamo dislocata su tutto il territorio nazionale ha diciamo messo a disposizione dell'utenza proprio queste tabelle in cui vediamo riportate la concentrazione di PM10 misurata chiaramente in microgrammi al metro cubo quindi stiamo parlando di una densità e a diversi intervalli quindi di valore legati che cosa? legati delle conseguenze dove considera quindi il livello il range di valori tra lo 0 e il 25 come dei valori diciamo di fondo cioè quello che comunque in atmosfera possiamo trovare viceversa invece man mano che il valore della concentrazione aumenta aumentano anche gli effetti che una persona può percepire e questo appunto giusto per concludere quindi la tabella per arrivare fino a dei valori molto alti come per esempio che superano i 150 microgrammi al metro cubo verificabili chiaramente in particolari circostanze come vi ho anticipato prima se siete interessati per esempio lo stesso sito di ARPA Emilia Romagna mette a disposizione queste tabelle dove l'utenza il pubblico può andare a leggere e quindi trarre le sue conseguenze e quindi essere informato quindi è chiaro che da questa piccola diciamo così panoramica ci rendiamo conto quanto sia importante lo studio della qualità dell'aria e anche l'essere informati sulla situazione del giorno stesso che stiamo considerando recentemente comunque un altro diciamo grandezza se vogliamo che aiuta a capire e trasmette immediatamente un livello qualitativo dell'aria e immediatamente associa degli effetti sulla salute è questo indice che prende il nome di indice della qualità dell'aria IQA che entra da che appunto come vediamo in questa tabella riassuntiva associa quindi in questo caso se l'indice rappresentato da 0-50 è una situazione buona se da 50-100 iniziano ad essere una situazione quindi moderata e via via così a 50 alla volta ma spieghiamoci meglio questo indice è un indice che arriva quindi dall'agenzia dell'ambiente l'equivalente se vogliamo un po' della nostra rete di monitoraggio ARPA l'equivalente negli USA quindi negli Stati Uniti di EPA e che ha in qualche modo normalizzato per i diversi tipi di inquinanti che andiamo a considerare quindi OPM 10 OPM 2.5 per esempio come vengono gli stati qua sotto l'ACO SO2 eccetera vengono e hanno normalizzato questo indice in modo tale che il valore di indice della qualità dell'aria non è associato ad un solo inquinante ma è associato a qualsiasi tipo di inquinante e chiaramente questo valore di indice della qualità dell'aria è raggiunto in modo differente a seconda dell'inquinante che stiamo considerando quindi se per esempio consideriamo il PM10 per avere un indice di qualità dell'aria buono che vale tra 0 e 50 dobbiamo avere una concentrazione di PM10 che vale tra 0 e 54 viceversa se invece consideriamo il PM2.5 dobbiamo avere una concentrazione che varia tra 0 e 15.4 tutto questo che vi ho detto comunque è sotteso da un decreto legislativo il decreto legislativo che attualmente è in vigore è il decreto legislativo del 13 agosto del 2010 che impone delle norme o meglio dei limiti legati proprio agli inquinanti quindi anche tra questi dal PM10 e al PM2.5 in particolare questa è la tabella che possiamo quindi estrarre proprio dal documento del decreto legislativo e vediamo che se per esempio consideriamo il particolato PM10 ci dice che in un giorno quindi non dobbiamo superare più di 35 volte il valore di 50 microgrammi al metro cubo e in un anno il valore medio di una stazione non deve superare i 40 microgrammi al metro cubo chiarifichiamo questa tabella con un esempio proprio con un esempio che è stato pubblicato in un in un resoconto finale di dati ARPA nel 2010 e vediamo il primo grafico in alto allora questo è ARPA Emilia Romagna e in particolare sono tutte delle stazioni di monitoraggio del territorio della provincia di Modena se consideriamo per esempio l'anno 2009 vediamo che in media tutte queste centraline hanno raggiunto un valore che comunque sta al di sotto comunque circa uguale ai 40 microgrammi al metro cubo che è il valore limite decretato dal che si legge si deve presentato nel decreto legislativo e come vediamo i valori quindi medi misurati per le diverse stazioni di diversi anni subisce un trend in diminuzione questo che cosa vuol dire vuol dire che probabilmente quindi la spinta verso proprio il controllo della qualità dell'aria sta avendo dei successi positivi perché è maggiormente controllato e quindi diminuisce la concentrazione media annuale in questo secondo grafico invece sono sempre le stesse centraline della provincia di Modena e invece è la secondo punto del decreto legislativo quello che dice che in un anno non dobbiamo superare più di 35 volte il valore di 50 microgrammi al metro cubo come vediamo anche in questo caso sono state ben oltre superati i valori anche se anche questo punto vede comunque nel 2009 2010 una significativa diminuzione rispetto agli anni precedenti e qui si conclude diciamo nel primo capitolo della conferenza c'è un primo capitolo in cui si vuole un attimino dare una visione un po' panoramica abbastanza divulgativa e generale di quello che si intende per particolato atmosferico ma soprattutto l'importanza del perché si studia e si vuole controllare quindi la concentrazione questa seconda parte della conferenza verterà sul significato di remote sensing prima di darne la definizione vediamo un attimino di introdurre alcune semplici definizioni ovvero partiamo dal significato di onda elettromagnetica un'onda elettromagnetica spiegate in modo molto semplice che cosa rappresenta rappresenta quindi una perturbazione in qualche modo nello spazio quindi io ho due campi il campo elettrico rappresentato dalla freccia blu e il campo magnetico rappresentato dalla freccia rossa che si muovono perpendicolarmente muovendosi in modo perpendicolare quindi questo è il campo magnetico e questo è il campo elettrico creano appunto proprio un'onda cioè una perturbazione e la distanza tra i due massimi di quest'onda viene chiamata lunghezza d'onda la variazione completa quindi di tutti i valori possibili assunti da questa lunghezza d'onda definiscono quello che si chiama proprio spettro elettromagnetico e tutte le volte che andiamo quindi che sentiamo che definiamo una grandezza uno strumento con il suffisso spettro spettrale significa implicitamente che è una grandezza o uno strumento come vedremo anche successivamente che dipende dalla variazione della lunghezza d'onda e in particolare quindi vi faccio notare appunto a lunghezza d'onda molto piccole diamo i raggi gamma i raggi X l'ultravioletto tutta la banda del visibile l'infrarosso le microonde e le onde radio la cosa un'altra cosa importante quindi un altro aspetto fisico importante per capire il significato di remote sensing è quello di non dimenticare di sapere esattamente che un'onda elettromagnetica comunque in se vogliamo la radiazione solare quindi la radiazione che ci arriva proprio dal sole se entra in contatto con un mezzo quindi in nostro caso consideriamo l'atmosfera subisce un'interazione interagisce cioè si accorge che c'è un mezzo che sta attraversando un mezzo e nell'attraversare questo mezzo che cosa subisce la radiazione? può subire effetti di rifrazione rifrazione che cosa significa? che cambia la direzione di provenienza la radiazione cambia la sua direzione di provenienza può essere assorbita o riflessa può essere scatterata cioè diffusa in più direzioni perché incontra una nube perché incontra particelle di più o meno grande dimensione in atmosfera e quello che noi riusciamo a misurare al suolo con degli strumenti è tutta la parte di radiazione che viene si dice appunto trasmessa quindi a questo punto siamo in grado quindi date queste semplici definizioni di definire che cosa intendiamo per il most sensing cioè tutta questa disciplina che ci permette di ricavare delle informazioni senza entrare in contatto direttamente con l'oggetto ma semplicemente studiando la radiazione che ha subito dei processi di interazione col mezzo attraversato e che noi misuriamo con un sensore detto più semplicemente mi caratterizza la scienza per mezzo della quale caratterizzo un oggetto e questo oggetto può essere identificato misurato analizzato ma non entra in contatto direttamente con esso si parla di telerilevamento di reno sensing attivo o passivo che cosa è che differenzia sostanzialmente queste due definizioni la prima è che abbiamo un sensore che invia un segnale elettromagnetico e ne misura quanto ritorna indietro quindi sostanzialmente noi abbiamo il nostro sensore a bordo di un satellite invia un segnale una onda elettromagnetica colpisce il terreno e chiaramente in mezzo abbiamo tutta l'atmosfera quindi ha interagito con l'atmosfera e ne misura il ritorno viceversa invece quello a cui noi facciamo riferimento anche nei passaggi successivi è quello che chiamiamo reno sensing passivo ovvero sia abbiamo un sensore a bordo di un satellite che misura la radiazione proveniente dalla terra dalla superficie terrestre che a sua volta è stata illuminata dalla radiazione solare quindi questa è un po' quella che se vogliamo la rappresentazione della situazione che stiamo analizzando quindi noi abbiamo il nostro sensore su un satellite che guarda la superficie la superficie che può essere mare che può essere terreno può essere la superficie di qualsiasi natura che è illuminata dal sole quindi è illuminata è colpita da una radiazione a questo punto quindi è importante io ho parlato di sensori di sensori a bordo dei satelliti a questo punto è importante quindi chiarire chi sono questi sensori uno di questi proprio è MODIS MODIS che è l'acronimo di Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer quindi è un semplicemente è uno spettroradiometro cioè un radiometro che ha una dipendenza come vi accennavo prima spettro quindi dalla lunghezza dalla variazione della lunghezza d'onda è a bordo di due satelliti qui viene rappresentato il satellite acqua ma è anche a bordo quindi sono due strumenti identici che si chiamano appunto così MODIS che sono a bordo di due satelliti della NASA che uno è terra e l'altro è acqua quindi questo vediamo tutto il satellite nel suo completo quindi con tanti sensori con tante strumentazioni che hanno nature diverse e in particolare quindi questo evidenziato è proprio questo scatolotto quello che prende il nome di MODIS quindi è a bordo di un satellite e quindi avrà tutte le caratteristiche di orbita chiaramente del satellite a cui dove è sopra quindi semplicemente le caratteristiche principali sono che è definibile quindi è uno spettro radiometro a 36 bande che cosa vuol dire? vuol dire che questo strumento analizza o meglio riesce a ricevere tutte le informazioni dell'onda elettromagnetica che coprono un certo range dello spettro elettromagnetico dal visibile all'infrarosso però non lo tiene aperto non lo usa sempre tutto questo range di spettro elettromagnetico ma a seconda quindi del piccolo intervallo di lunghezze d'onda che utilizza riesce ad estrapolare informazioni diverse ed ogni intervallo quindi di lunghezze d'onda si definisce banda poi su questa definizione ci ritornerò tra un attimo fa parte quindi di un viene lanciato appunto su questi due satelliti perché fa parte appunto di un progetto chiamato EOS della NASA che vuole essere proprio un progetto per studi legati proprio all'ambiente dell'intero globo terrestre e quindi chiaramente appunto come dicevamo ottiene delle informazioni sulla radiazione appunto del visibile e dell'infrarosso e ovviamente trova appunto ricava delle informazioni dati raccolti ci permettono di ottenere delle informazioni proprio legate all'ambiente all'atmosfera a livello chiaramente globale queste vi ho riportato quello che è la scheda tecnica un po' di MODIS con una serie di caratteristiche strumentali e a questo stadio diciamo della conferenza mi limito solo a sottolineare la risoluzione spaziale che a seconda quindi della banda o meglio della lunghezza d'onda utilizzata da MODIS abbiamo una risoluzione spaziale abbastanza alta quindi che varia da 250 metri fino a un chilometro questa invece è una tabella riassuntiva delle caratteristiche di ogni banda appunto di MODIS cioè quello che dicevamo prima abbiamo il numerino che associamo qui a sinistra in qualche modo è il nome della banda cioè il nostro strumento identifica un certo intervallo di lunghezza d'onda e a quell'intervallo di lunghezza d'onda viene associato il nome della banda per esempio banda 1 ok in particolare vorrei porre l'attenzione su le prime bande che dello strumento che hanno che sono diciamo definite nel range delle lunghezze d'onda del visibile e come vi ricordate che ha un intervallo quindi circa 400 700 800 nanometri e del vicino infrarosso si chiama così perché se leggiamo nella tabella quindi nella più a sinistra vediamo che l'uso primario di queste bande vengono utilizzate per ricavare delle informazioni delle proprietà legate agli aerosol quindi aerosol al particolato atmosferico quindi già iniziamo a capire un pochettino il link cioè il collegamento con il capitolo precedente c'è questo radiometro spettroradiometro che a bordo di un satellite quindi ha una copertura globale che viene diciamo utilizzato proprio per scopi di studi a livello ambientale e che se utilizza quindi i primi intervalli delle sue lunghezze d'onda ricava delle informazioni sulle proprietà del particolato atmosferico quindi già iniziamo a capire un attimino un po' dove vogliamo andare a parare e questo è diciamo la parte sono le altre 15 bande insomma giusto per arrivare alla 36esima per completezza e vediamo che le quindi come si dice l'uso di queste bande sono le più disparate e sono diverse tutte queste informazioni sono scaricabili e sono assolutamente pubbliche sul sito proprio di Modis sul sito website di Modis della NASA dove è possibile proprio scaricare anche dati o immagini se siete interessati e curiosi vi avevo parlato prima delle caratteristiche strumentali e sono passata abbastanza velocemente perché volevo in realtà riprenderlo un attimo in questa seconda parte e soffermarmi prevalentemente sull'orbita allora abbiamo detto che Modis è a bordo di un satellite quindi chiaramente le caratteristiche dell'orbita sono quelle legate al satellite stesso e come leggiamo è l'orbita del satellite a 705 chilometri di quota quindi non è molto molto alta come quota perché ci sono satelliti che possono raggiungere anche i 20-25 chilometri e a seconda che andiamo a considerare i satellite terra o acqua abbiamo un'orbita se consideriamo terra un'orbita discendente se consideriamo acqua abbiamo un'orbita ascendente e ma soprattutto anche quindi queste sono le due immagini che rappresentano quindi schematicamente i due satelliti sui due radiometri sui due satelliti e un'altra caratteristica dell'orbita è che è egliosincrona cioè che cosa significa che è sincronizzata col sole se proprio vogliamo usare dei termini molto semplici cioè significa che il satellite attraversa lo stesso spot sulla terra circa alla stessa ora locale ogni giorno e questa è una caratteristica importante perché noi riusciamo ad avere ogni giorno informazioni su quell'area di interesse sul globo questa è quello dicevamo appunto se vogliamo la rappresentazione schematica di che cosa vuol dire avere un'orbita discendente cioè questa è la rappresentazione del satellite terra su questo satellite dobbiamo immaginare che uno di questi strumenti appunto sia modis parte dal polo nord e ridiscende verso il polo sud e chiaramente abbiamo il satellite che orbita attorno alla terra e conseguentemente sotto la terra sta orbitando quindi riesce a coprire tutto il globo tutta la superficie del globo se per capire quindi questo è stato fatto anche un piccolo studio molto semplice è stata considerata per esempio la zona di Modena quindi come coordinata la centralina di misura di PM10 del parco Ferrari e questo giorno giuliano che cosa significa? Il giorno giuliano significa che io vado a contare a numero progressivo i giorni dell'anno cioè giusto per intenderci il primo gennaio è uno il due gennaio è due e così via fino ad arrivare il 31 dicembre che è il 365 o 366 se è un anno bisestile questo range di numeri quindi questo intervallo di valori di giorno giuliano rappresenta il mese di settembre e è stato quindi ogni stellina che vedete rappresentati sul grafico rappresenta l'ora di passaggio del satellite sulla zona di Modena quindi è stata considerata per comodità una coordinata geografica ma chiaramente dovete immaginare la zona della pianura padana l'ora GMT dovete sommare più due se siamo in estate oppure più uno se siamo in inverno e quindi vediamo che nella zona della pianura padana quindi se vogliamo proprio su Modena il satellite Terra passa alle 12 in estate quindi quando non abbiamo l'ora legale questo invece è quello che si intende quando un'orbita è ascendente cioè parte il satellite acqua parte dal polo sud e arriva al polo nord e questa è un po' la rappresentazione se vogliamo di quello che fa il satellite e quando passa il satellite si dice che fa delle spazzolate il termine SWAT cioè per dire una spazzolata e vede appunto una strisciata della Terra quindi questo ci permette di dire una cosa molto importante cioè che il fatto di avere di utilizzare questi satelliti con queste caratteristiche orbitali ci permettono di avere una copertura praticamente quasi completa quasi giornaliera e quindi di tutto chiaramente di tutto il globo e questo chiaramente è un aspetto assolutamente importante questo come vedete è la rappresentazione diciamo a 2D di quello che vedevamo prima di tutta la Terra cioè se noi immaginiamo di appiattire quindi la visione in 3D vediamo che in un giorno abbiamo praticamente tutto completo la mappa della mappa quindi arrivati a questo punto abbiamo due situazioni da una parte quindi abbiamo visto un po' tutto l'aspetto del particolato atmosferico della sua importanza eccetera dall'altra invece abbiamo visto come l'uso di strumenti a bordo di satelliti siano in grado di fornire una copertura completa del globo e di restituire delle informazioni a carattere proprio ambientale proprio anche proprio legato alle proprietà degli aerosol questo quindi ci permette di unire un po' il discorso e quindi il passo che la ricerca sta affrontando è proprio questo di dire benissimo quindi da misure satellitari noi vogliamo andare a vedere come si parlano appunto i valori ottenuti ottenibili con il particolato atmosferico cioè spiegandomi meglio se noi abbiamo delle misure da centralina di monitoraggio della rete di monitoraggio di ARPA chiaramente queste misure rappresentano solo una parte dell'atmosfera perché la centralina è al suolo e misura chiaramente diciamo l'atmosfera i primi strati di atmosfera che gli stanno sopra viceversa se abbiamo delle misure se possiamo ottenere delle misure satellitari chiaramente abbiamo un valore integrato perché su tutta l'atmosfera cioè il satellite guarda l'atmosfera e vede tutto dal top dell'atmosfera fino a sotto per capire meglio che qual è il parametro che possiamo ottenere dalla misura satellitare andiamo a definire quindi che cosa si intende per spessore ottico degli aerosol ovvero sia l'equivalente in qualche modo del PM del PM abbiamo il PM che è diciamo un po' la grandezza che viene misurata dalla centralina ARPA l'AOD invece che è la sigla inglese di spessore ottico degli aerosol è quello che invece è il dato che vogliamo invece ricavare dai satelliti dalla misura satellitare detto proprio semplicemente rappresenta un po' se vogliamo lo sporco della nostra atmosfera cioè se noi ci ricordiamo che la radiazione elettromagnetica nel passaggio con l'atmosfera interagisce ok ricordando questo vediamo che il rapporto tra quello che arriva al top dell'atmosfera rispetto quello che è effettivamente arrivato rappresenta proprio quindi la grandezza tau che vedete rappresentata in questa formula rappresenta proprio che cosa una grandezza dimensionale e rappresenta lo spessore ottico degli aerosol quindi ci dice quanto manca nella radiazione rispetto a quello che era partito e questo se vogliamo andiamo a chiarificare quindi quello detto quindi abbiamo al top dell'atmosfera i satelliti che misurano quindi tutto l'integrale dell'atmosfera e al suolo abbiamo la centralina ARPA questi sono i diversi strati dell'atmosfera che possono essere identificati quindi come appunto troposfera stratosfera eccetera a seconda della variazione della temperatura ma giusto per capire che mentre la centralina ARPA in qualche modo si inimita al primo strato dell'atmosfera dove comunque è maggiormente concentrato diciamo il particolato atmosferico proprio perché è dovuto ad origine antropica invece al contrario il satellite vede l'integrale su tutti quindi ne restituisce una misura su tutti gli strati atmosferici e a questo punto quindi risulta abbastanza interessante vedere alcuni risultati che sono stati ottenuti ottenuti in particolare andando a considerare una particolare area di interesse l'area di interesse analizzata è la valle del Po quindi la pianura padana perché la valle del Po perché è una delle principali aree industrializzate del nostro del nostro paese quindi quindi appunto lo studio dell'inquinamento atmosferico rappresenta un aspetto molto importante e chiaramente da controllare ma soprattutto anche perché proprio la conformazione geografica quindi di quest'area in qualche modo favorisce proprio la stagnazione degli inquinanti cioè se noi queste sono immagini da satellite vediamo proprio che la pianura padana come tutti noi sappiamo è proprio racchiusa a nord dalla catena montuosa delle alpi e a sud proprio dalla catena degli appennini e questo sfavorisce un rimescolamento dell'atmosfera ma anzi favorisce proprio una stagnazione degli inquinanti queste sono altre immagini dove vediamo proprio quindi la chiusura in qualche modo delle nubi ma più significativamente come tutti noi sappiamo la pianura padana è caratterizzata da fenomeni di nebbia e quindi vediamo proprio che e questo è quello che vede il satellite quindi la valle del Po abbiamo ottenuto un database completo di tutti i dati sia per quanto riguarda i valori di PM PM10 PM2.5 per l'anno 2012 ottenuti da tutti dalla rete completa di monitoraggio di ARPA e equivalentemente anche i valori telerilevati per l'anno 2012 ottenuti da quello che prende il nome di un prodotto che ci viene fornito proprio dalla NASA e di valori misurati da MODIS che prende il nome di MOD 04 e sono scaricabili sono pubblici questi dati a questo punto quindi la rete di monitoraggio nella regione della valle del Po che sono le quattro regioni che sono state considerate sono appunto il Piemonte Lombardia Emilia Romagna e Veneto e in particolare tutte le centraline quindi rappresentate da questi pallini colorati le centraline in pianura quindi tralasciando quelle caratterizzate dalle regioni montuose mentre invece quindi quando consideriamo quindi questo è quello che viene la mappa dei dati del prodotto MODIS MOD 04 cioè sostanzialmente dal sito della NASA noi possiamo scaricare dei file di file di dati in un particolare formato e con dei particolari con anche non troppo elaborati software possiamo ottenere proprio la mappa grafica colorata che ci restituisce proprio la mappa di spessori ottici telerilevati nell'area di interesse come vedete appunto qui quindi la la forma appunto questa è la pianura padana quindi l'Italia il nord Italia e già abbiamo possiamo già dare una prima valutazione per la giornata del 6 settembre del 2012 una prima valutazione di come vanno le cose cioè vedete che questi valori più alti che rappresentano valori più scuri quindi valori verso il rosso più alti di spessore ottico sono maggiormente concentrati in Romagna mentre invece nella zona per esempio del Piemonte Lombardia vediamo dei valori molto più bassi vi faccio notare anche una cosa che se notate vediamo è visibile una lastrisciata che si sovrappone in qualche modo alla zona qui a destra e questo è proprio dovuto al fatto quando vi parlavo prima della strisciata di Modis che passa sopra il globo può succedere che le due strisciate di Modis si sovrappongano leggermente e quindi questo comporta una sovrapposizione del dato in particolare quindi se le stelline rosse rappresentano propri punti geografici di coordinata delle stazioni di arpa e sono rosse perché abbiamo sia dato misurato al suolo dalla centralina quindi sia il dato telerilevato mentre invece la stellina nera rappresenta invece un punto in cui il satellite non è riuscito ad ottenere la misura probabilmente per copertura nuvolosa quindi non è riuscito ad ottenere la misura ad arrivare fino al suolo mentre invece abbiamo il valore per esempio da arpa della centralina di arpa e se noi in particolare consideriamo quindi l'Emilia Romagna giusto per non consideriamo tutta l'area della valle del Po ma ristringiamo il campo e ristringiamo il campo prevalentemente alla stazione di Modena e consideriamo una centralina campione una centralina di traffico urbano Modena Parco Ferrari e vediamo le misure che misura PM 2.5 questo è il grafico cioè la rappresentazione di quello che viene fatto ok e vediamo quindi l'andamento rosso rappresenta l'andamento dei valori di concentrazione di PM 2.5 per tutto l'anno 2012 per una stazione campione di Modena quindi di Parco Ferrari messa a confronto con l'andamento blu ok che sono invece i valori telerilevati quello diciamo l'attenzione la poniamo invece su questi pallini più grandi quindi quello giallo che è il valore medio mensile di PM 2.5 e quello verde che invece è il valore medio mensile dei dati telerilevato come vedete i valori non sono esattamente uguali ma si parlano nel senso che l'aumento quindi di uno corrisponde anche all'aumento dell'altro e la diminuzione dell'uno corrisponde anche alla diminuzione dell'altro quindi vedete già iniziamo già a capire ok come il dato telerilevato in qualche modo sia correlato quindi abbia diciamo una corrispondenza con il valore invece misurato dalla centralina terra queste sono le classi che vi menzionavo prima le classi di indice di qualità dell'aria quello che dicevamo prima cioè i valori compresi tra lo 0 e il 15 rappresentano una situazione buona di qualità dell'aria e i valori compresi tra il 15 e il 40 una situazione moderata e all'aumentare quindi fino al 65 una zona più invece di inizio di rischio e quindi di pericolo come vedete anche come potete notare chiaramente i valori più alti li abbiamo nei mesi autunnali e invernali chiaramente perché abbiamo più attività industriale perché abbiamo più attività proprio anche del riscaldamento cioè proprio attività dell'uomo se invece vogliamo considerare interamente quindi per esempio un'area più grande quindi per esempio una regione possiamo ottenere equivalentemente con gli stessi ragionamenti anche l'andamento di PM10 e in questo caso quindi come vediamo ancora una volta vi ripropongo quindi le varie classi di qualità dell'aria e anche in questo caso anche per il PM2.5 come vedete anche se consideriamo quindi un'intera area i dati i valori telerilevati correlano con i valori misurati a terra questo grafico rappresenta vuole essere una chiarificazione di quello che abbiamo detto prima per quanto riguarda i valori nel periodo invernale nel periodo estivo e vediamo come questi sono diversi codici che identificano le stazioni in Emilia-Romagna e vediamo come i valori medi misurati di PM2.5 siano più alti in inverno rispetto che in estate quindi è una caratteristica che è comune a tutte le regioni a tutte scusate le centraline della regione Emilia-Romagna questo grafico apparentemente abbastanza incomprensibile in realtà è quello che fisicamente prende il nome di scatterplot cioè mette in relazione i valori di PM2.5 e i valori di MODIS telerilevati e tanto più questa nube di punti è stretta quindi localizzata lungo la diagonale tanto più i dati sono buoni ora questo grafico diciamo un grafico abbastanza diffuso in letteratura nella ricerca e che comunque a questo stadio di utilizzo del dato ci dice che possiamo essere soddisfatti della correlazione delle coppie di dati che consideriamo cioè semplicemente se noi abbiamo una misura di PM2.5 in una centralina che mi dice che è di 30 microgrammi al metro cubo questo punto per esempio ha un valore più basso telerilevato e così via cioè ogni punto è in realtà una coppia di valori il valore misurato a terra e il valore telerilevato questo è lo stesso grafico però dove ogni punto ha un colore diverso è una forma diversa a seconda del tipo di centralina che io sto considerando e se noi consideriamo per esempio questi punti che sono fuori diciamo fuori diagonale cosa mi dicono mi dicono che per esempio questo punto ha un valore molto molto alto di PM10 cioè questa centralina misura un valore molto alto di PM2.5 ma invece il satellite da lassù vende un valore bassissimo ecco se noi andiamo ad analizzare quest'area queste crocette le andiamo a associare con il diverso nome di centraline ci rendiamo conto che sono centraline di traffico urbano cioè posizionate in area dove sono soggette molto traffico quindi questo che cosa vuol dire vuol dire che la centralina a terra misura dei valori molto alti di inquinamento di particolato atmosferico mentre invece il satellite in qualche modo da lassù e con tutto il dato integrato perde quello che è proprio l'alta concentrazione al suolo di particolato atmosferico quindi a noi soddisfa questo risultato soddisfa questo risultato di questa correlazione tra i due dati ma soprattutto anche per noi è molto interessante il fatto che noi possiamo avere quindi dal dato terrilevato una copertura assolutamente completa e ci permette proprio di di avere immediatamente per un certo giorno considerato una rapida valutazione dell'area cioè come vi dicevo prima per esempio ritornando sulla stessa immagine possiamo immediatamente avere quindi una una valutazione di dire benissimo quest'area è molto più inquinata rispetto alla zona d'oveste della pianura padana fino ad ora abbiamo considerato la parte che riguarda proprio la valutazione della qualità dell'aria senza menzionare una previsione ecco la previsione viene proprio diciamo può essere rappresentata da quello che vi anticipavo all'inizio cioè l'utilizzo di un di un software che si chiama proprio Idea International che è un acronimo ma che è questo software open source che è stato sviluppato nel 2005 dalla NASA e che attualmente è stato rilasciato all'università americane e che vuole essere proprio un software per permettere non solo la valutazione della qualità dell'aria in un certo giornata ma fornirne anche soprattutto la previsione e questa previsione è fornita partendo dai dati satellitari dal prodotto MODIS che avevamo menzionato quindi qualche diapositiva precedente quindi questo è quello che in qualche modo è l'output il risultato finale se utilizziamo questo software e forni allora andiamo con quindi fornisce la previsione nelle 48 ore successive e cosa vediamo allora vediamo innanzitutto spero riusciate a vedere che abbiamo la zona dell'Europa quindi questa è l'Italia ok questi pallini colorati ok rappresentano dei valori di spessore ottico qui rappresentata la leggenda con valori maggiori o uguali di 0.4 da questi valori vengono fatte partire questi pallini rosa che sono delle chiamate traiettorie e sostanzialmente dovete immaginare che come input cioè all'impasto di questo software vengano forniti i valori telerilevati da MODIS quindi MODIS che ha una copertura completa su tutto il globo giornaliere eccetera eccetera accoppiati con dei valori meteorologici quindi di direzione del vento di pressione eccetera il software è in grado di fornire quindi l'andamento proprio della direzione di questi degli inquinanti ok del particolato atmosferico questo per esempio quindi è il primo settembre del 2012 questo va avanti vediamo che questa è l'area appunto del Balcani con altissimi valori di particolato atmosferico e vedete questa direzione appunto verso est circolare ok della direzione della previsione del dato se noi ci spostiamo al 2 di settembre vedete effettivamente che i valori di alto valore di spessore ottico si sono portati verso est infine quindi se appunto andiamo a vedere proprio il 3 settembre vediamo che tutti diciamo i valori ok si sono proprio spostati quindi questo in qualche modo chiaramente detto proprio semplicemente è un po' l'output di questo software che si vuole appunto utilizzare e sviluppare proprio perché deve essere in grado di non solo fornire una valutazione della qualità dell'aria che è chiaramente importante con tutti diciamo l'importanza che abbiamo sottolineato fino all'inizio ma come è importante la previsione meteorologica risulta essere anche importante la previsione della qualità dell'aria e quello che si cerca proprio di studiare e di aumentarne appunto la ricerca la conoscenza ma partendo proprio da dati satellitari da dati telerilevati io vi ringrazio per l'attenzione grazie mille per questa bellissima conferenza se qualcuna domanda credo che adesso Barbara sia disponibile prego avete provato a così associare questi dati con dati epidemiologici quindi la ricaduta e la correlazione tra i vostri dati e quelli di non so dell'impatto sulla salute umana quindi su i dati questo software e se può essere anche utilizzato per chi si occupa di salute di è certo bellissimo perché è una potenza importante nel senso se tu riesci anche a supportare certe patologie cioè l'insorgenza o comunque la concentrazione in determinate aree di certe patologie grazie anche ai dati satellitari non è male e poi altra curiosità è riuscite a pennellare tutto il pianeta con questi satelliti o se si considera sono solo diciamo sottermata su modis perché grazie ho considerato solo modis come sensore come radiometro perché volevo diciamo arrivare alla presentazione di questo software che utilizza proprio i prodotti di modis e anche perché ha questa potenza del fatto che proprio copre giornalmente tutto e riesce proprio a spazzolare tutto il pianeta quasi cioè completamente con un range giornaliero proprio quindi sì e a livello di sono molto ignorante perdonami la banalità magari della domanda è dunque la copertura nuvolosa quindi il discorso di meteo ci sono dei filtri io sto pensando anche ai vulcani capito a tutto il pianeta terra quindi l'associazione di questi di questi di questi inquinanti che possono qui sta girando però la primo diciamo flash ecco vedi ci sono le nuvole e adesso ho tralasciato questa parte però diciamo come input oltre al prodotto modis di spessore ottico e chiaramente anche tutto ha i valori metrologici c'è proprio un altro prodotto che si chiama mod 06 che tiene conto ed è la cloud mask cioè tiene conto proprio della copertura nuvolosa e quindi riesce a distinguere proprio se è nube o se invece è una nube da particolato perché chiaramente la differenza cioè se c'è la nube per esempio appunto di una ruzione vulcanica non è una nube metrologica e quindi questa cloud mask è proprio utilizzata proprio per discriminare le diverse nature delle nubi l'ultima prometto no è interessantissimo riuscite cioè la raccolta dei dati l'elaborazione di questi dati riuscite a star dietro ai dati raccolti da satellite perché mi viene in mente altre reti che esistono a livello planetario per il telerielevamento ad esempio del calore o non so si va anche a seti e quindi ai dati raccolti dai radiotelescopi che i ricercatori hanno questo problema cioè non riescono a star dietro all'elaborazione dei dati hanno creato anche degli screen saver proprio da gestire da dare all'utente per non solo avvicinarlo al problema ma anche per collaborare alla ricerca avete lo stesso problema voi o il dato telelevato è nel real time cioè nel senso che se uno ha a disposizione un un server per esempio un server ftp insomma sul quale si possono scaricare i dati i dati sono proprio real time quindi uno cioè diciamo questo particolare risultato che ho mostrato è stato una sorta di studio retrospettivo cioè io ero là nei mesi di settembre ottobre però abbiamo considerato delle diciamo delle situazioni meteorologiche e dei dati nelle settimane precedenti però in realtà in italia non c'è ma invece sul sito proprio di idea international che gira sul territorio statunitense il dato è in real time quindi proprio aggiornato ora per ora e quindi ho la previsione proprio per i giorni successivi cioè io oggi è il 13 di febbraio ho i risultati fino al 15 di febbraio sì 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 qualcuno ha qualche altra domanda sei stata bravissima nessuno ha domande quindi sei stata veramente chiara va bene se nessun altro ha domande ringrazio ancora Barbara e vi auguro buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti